Riapertura di via Augusta con polemiche. Dopo la conclusione dei lavori per la strada che collega Viale Santa Panaggia con Viale Scala Greca, ai cittadini e residenti non è sembrato ancora tutto a posto. Infatti le transenne sono rimaste a metà permettendo soltanto un senso di marcia per questo motivo. Gli automobilisti e gli scooteristi hanno deciso di spostare alcune delle transenne decidendo che il doppio senso poteva già dirsi concluso. Così non è, mancano ancora alcune segnaletiche e gli ultimi lavori per pulire la strada. La strada era stata chiusa per circa due mesi creando comunque alcuni problemi per chi fosse in arrivo dalla zona di Viale Santa Panaggia dato anche il grande flusso per la presenza del Palazzo di Giustizia. Un'improvvisa rivoluzione della circolazione che aveva fatto adirare chi è abituato a percorrere quel tratto di strada per sveltire l'arrivo verso l'ingresso e l'uscita della città di Siracusa. I lavori erano stati necessari proprio per la presenza di alcune tubature. È stata rimessa a nuovo la strada ed è stata riasfaltata. Adesso si attende che tutto venga rimesso a posto per permettere il transito tranquillamente ed eliminare il malumore di automobilisti, residenti e scooteristi.